Il telefono è spento da tre settimane. Mi sto informando per cambiare scuola. Il video rispunta fuori in due minuti. Ma se neanche come cazzo sono andate le cose? Non rimango nascosta a ricevere altri cazzi sul telefono. Mamma mia, vi ho mandato le foto della tua ex. Spacci, giochi a basket, poi ti nascosto ti vesti da figa. Ma che cazzo? Con tutte le persone che ti sbavano dietro, ti vai a imborticare con quel quattro di merda. Eri con Daniele? Davo tutte le cose infamiche che mi ha fatto. Sei ossessionato da Daniele, Marco? Mi fa il culo. E chi sei scopata, carola? Io. Dani. Le persone non sono abituate a vederci fare le cose che fanno tutti gli altri. Complimenti per la tua intervista. Bellissima. Complimenti. Non c'è mai una via di mezzo. Forse è una troia, forse è un esempio. E il video parla con mio fratello? Quando è? E qua, pezzo di merda! Ma io l'ho tornata a Daniele, anche se fosse... Se siete attratti in una persona gender fluid, la cosa non vi rende... Se senza vergogna, sei incredibile. Magari è soltanto bisogno di un po' di tempo. Non è lì, cazzo! Sono in grado di sbagliare qualsiasi cosa faccio, cazzo. All this time I've been in my mind, lost inside, for now, forever. Non si molla? Mai. Mudo. Non ci sono un po' di tempo. Non ci sono lasonedza? Non ci sono state!